e amici sportivi buonasera ben ritrovati trentacinquesimo appuntamento stagionale con tutti nel pallone noi siamo pronti quindi come ogni venerdì per presentare quello che sarà il prossimo weekend calcistico proprio ora mentre andiamo in onda in campo la serie B con le gare dell'ultima giornata gare ininfluenti per i destini di Catanzaro e Cosenza che affrontano rispettivamente al Ceravolo la Sampdoria ed in trasferta il Como le due avversari invece hanno ancora qualcosa da chiedere a questo campionato però come dicevamo Catanzaro e Cosenza già hanno archiviato la stagione regolare Catanzaro che è chiuso al quinto posto e affronterà il playoff e da definire con chi Catanzaro e Cosenza salvo che non ha più nulla da chiedere a questo torneo in serie C invece il Crotone saluta subito i playoff per via della sconfitta in casa della Picerno di questo parleremo andando anche a sentire alcune considerazioni di mister Azauli ma parleremo soprattutto di serie D e lo faremo con due ospiti che vi presento subito che in un certo senso sono la serie D futura la serie D 2024-2025 perché abbiamo in studio il nuovo direttore sportivo dell'Igea Virtus Angelo Sorace benvenuto grazie buonasera per l'invito e l'allenatore del San Biaset dei record che il prossimo anno affronterà la serie D Claudio Morelli buonasera mister ciao Stefania buonasera grazie come detto si parla soprattutto di serie D allora partiamo proprio dalla serie D campionato che stagione regolare che ha chiuso i battenti la scorsa settimana si parte ora con playoff e playout innanzitutto partiamo dalla sfida che vedrà sfidarsi due calabresi perché domenica Luigi Razza si gioca Vibonese Reggio Calabria è chiaro sono dei playoff che ancora hanno un po' di incognita perché non è detto che servano a qualcosa insomma Angelo sì sicuramente sono delle squadre che attrezzate per per vincere il campionato anche se il Trapano ha fatto un campionato particolare quest'anno sicuramente sia la Vibonese che la Regina erano squadre importante per la categoria siamo a Siracusa adesso c'è anche entrato l'ultima giornata alla Cereale però sempre su squadre importante come dicevo prima blasonate però è sempre un ternalotto tra le altre cose non è facile vincere i playoff in tutte le categorie sicuramente sarà una gran bella partita domenica. Chi ci arriva meglio a questi playoff in serie di una Siracusa un po' spompato forse da quella che è stata la corsa al Trapani anche se è finita già da tempo la corsa la rincorsa al Trapani una Vibonese che è stata in fase calante nelle ultime giornate una Regina Reggio Calabria che invece ha chiuso in crescendo o la Cereale che è un po' diciamo l'outsider fra queste quattro guarda paradossalmente in in queste queste partite chi arriva da dietro arriva sempre con entusiasmo arriva sempre con come un treno in corsa perché ha raggiunto diciamo tante volte anche un obiettivo insperato chi invece come il Siracusa ha fatto questa rincorsa col Trapani questa gara col Trapani che era una gara che poi alla fine diciamo ha dato il via libera al Trapani da tanto tempo può trovare delle dal punto di vista mentale potrebbe trovare delle difficoltà però io credo che qualitativamente il Siracusa abbia qualcosa più di tutti quindi lo vedo favorito per queste per questo playoff. diciamo forse anche che appunto come come sottolineava il mister chi ha lottato fino all'ultima giornata insomma per ottenere il proprio obiettivo come nel caso della Cereale non ha mai abbassato un attimo il livello di attenzione e livello di guardia a differenza di Siracusa, Vibonese soprattutto insomma che necessariamente al risultato acquisito hanno inevitabilmente calato un pochettino le proprie prestazioni il proprio rendimento. Sì perché come hai detto bene c'è un'altra squadra come Sant'Agata e Casal Nuovo erano sempre lì a giocarsi il quinto posto. Infatti poi uscito la Cereale io non me l'aspettavo onestamente ci credevo più su Casal Nuovo però sono come ho detto prima sono state delle squadre che hanno fatto un buon campionato come Sant'Agata, Casal Nuovo, la Cereale stesso. Il Licato un po' mi ha deluso onestamente quest'anno però dico quelli che sono lì davanti hanno meritato sicuramente per fare i play-off e il Trapane ha stravinto questo campionato. Questo è indubbio. La Vibonese ha fatto sicuramente molto bene forse oltre le aspettative mister la regina invece questa reggio Calabria di mister Trocini contestata perché insomma non ha il nome regina perché non ha il logo della regina perché non ha una proprietà regina però tra mille difficoltà è riuscita a piazzarsi dietro alle big insomma le lepre di questo campionato. Io faccio i complimenti a mister Trocini perché arrivare a reggio e prendere in corsa una squadra, costruire una squadra quando le altre già avevano avevano fatto in precedenza, avevano avuto più possibilità e poi ricordiamoci che il blasone della regina ha un peso importante quindi faccio veramente un plauso alla Trocini nostro staff perché hanno portato avanti una stagione veramente importante con tante difficoltà e quindi essere arrivati all'obiettivo play-off io credo che ripaghi di tanti sacrifici che sono stati fatti. Poi giustamente c'è l'aspettativa reggio non è una comparsa specialmente in questa categoria quindi non può lottare per viva chiara in serie D, sono chiare le attese dei tifosi insomma sono più che lecite. Le aspettative sono molto alte anche il risultato di 2 a 0 tante volte scontenta perché è poco. Sì soprattutto se non arriva corroborato da una prestazione convincente. Angelo Soraccia che l'ambiente regina lo conosce? Sì vabbè ultimamente ci sono delle polemiche incredibili contro la società per fatto del marchio, per fatto del Sant'Agata e dico se lo prendono non lo prendo questa società attuale e allora ci sono queste polemiche anche col sindaco so che l'altro giorno sono andato a visitare lì alla società però ci sono sempre queste diatribe tra di loro perché come diceva bene Claudio Reggio non è un ambiente difficilissimo. Ed è un ambiente che si è visto scippare una serie B così senza neanche rendersene conto non ci dimentichiamo questo aspetto insomma trovarsi dai play off per andare in serie A ad una serie D è un brusco risveglio. Fa male, fa male, questo fa male veramente. Io l'ho detto anche in altre situazioni che non si ce l'aspettava nessuno anche il discorso dell'FC Lamezia io non me lo aspettavo come non mi aspettavo alla fine della regina. Purtroppo è successo noi non possiamo sapere i motivi però è un peccato lei che ha collaborato tra l'altro con l'FC Lamezia Terme quindi con Saladini con la proprietà Saladini. Se lei stessa a dirci che è stato come un fulmine a ciel sereno, immaginiamo cosa possono pensare i tifosi della regina. Io perlomeno quell'anno che eravamo qua con l'FC era tutto tranquillo tutto a posto però poi l'anno dopo è successo quello che non doveva succedere. In un certo senso mister quello che è successo ha riguardato anche il Sambiase o comunque tutto quello che è girato nel mondo del calcio insomma Lamezia Terme è stato tutto attorno alla figura di Felice Saladini negli ultimi tre anni perché dall'acquisizione del titolo del Sambiase rinominando l'FC Lamezia Terme a questi due campionati di serie D poi la rinuncia Sambiase che riparte dalla prima categoria poi l'acquisizione del titolo della promosporto per giocare e vincere in maniera straordinaria questo campionato d'eccellenza. Insomma è stata una rivoluzione in tre anni. Sì sì Lamezia Terme ha vissuto veramente un terremoto da questo punto di vista. Io definisco spesso uno tsunami. Uno tsunami hai detto bene la parola giusta. È stato stato un periodo in cui il calcio Lamezia era veramente visto come un qualcosa di di negativo. La gente purtroppo non si è affezionato a queste FC Lamezia vuoi anche perché i risultati non sono venuti perché nel mondo del calcio ricordiamoci che i risultati sono la cosa principale per quanto riguarda diciamo il proseguolo e l'entusiasmo. L'FC questo specialmente il primo anno non l'ha avuto perché era partito con l'obiettivo di vincere il campionato. Poi lo sa benissimo il direttore che era lì quindi ha vissuto tutti i momenti. Invece quest'anno io dico che tra San Biasi e Bigor Lamezia i derby ne sono stati conferma. La presenza di 4.000 persone allo stadio hanno fatto capire che ognuno ha il suo la propria identità e quindi bene così. Al di là probabilmente dei risultati mancati per l'FC Lamezia Terme forse è stata vista anche come una forzatura la creazione di questa nuova realtà che comportasse l'esclusione delle altre due perché una nuova realtà non avrebbe disturbato nessuno qualora non avesse mirato all'esclusione alla scomparsa delle altre due immagino anche. Sì sicuramente perché come hai detto poc'anzi ha acquisito il titolo del San Biasi e ha fatto sparire la vigora. Ha fatto sparire la vigora quello è il discorso e noi eravamo vigoro perché l'anno prima c'era anch'io come vigoro. Io dico col senno del po' adesso è facile parlare. Giusto Claudia? Forse era facile prevederlo anche in tutti i sospetti. Mi viene da dire però... Però sai... è mancato successo a livello di piazza, a livello di tifoseria, non era il figgile pronosticale. Io perlomeno sempre col senno del poi era giusto che rimaneva come Vigo Ramezia e San Biasi. Continuare come Vigo Ramezia magari l'anno dopo vincere il campionato di eccellenza della Vigo Ramezia San Biasi faceva la Serie D perché ha meritato sul campo la promozione ed era giusto non dividere le due compagini, diciamo, lamettini. Purtroppo questo è successo e il risultato si è visto. Forse anche i modi e il tempo non erano consoni. Penso proprio che non era il momento. Può darsi che in futuro poteva, poteva. Adesso io credo che si è capito che Lamezia ha bisogno di ognuno la sua identità, Vigo Ramezia... Comunque Lamezia ci può essere una terza realtà, ma senza andare a distingere quelle precedenti. Però io dico che Lamezia, onestamente perlomeno da Lamezia, ho indossato la maglia della Vigo Ramezia, sono stato direttore sportivo. Dico, è un peccato una città come Lamezia non avere una squadra importante. Una squadra importante. Come minimo la Cici ci sta stretta. Ci sono stati gli anni in cui... Perché siamo al centro della Calabria, Lamezia è il centro della Calabria, Claudio. Dove c'è tutto. C'è un aeroporto, c'è uno svincolo autostradale, c'è una stazione... Si può fare... E dico, è un peccato, dal d'esterno, per me è un peccato vedere Lamezia che fa la Serie D, che fa l'eccellenza. Può ambire, non dico, ma qualcosina in più. Io mi sbilancio, la Serie B la poteva fare a occhi chiusi. È chiaro, quello unendo le forze, le intere forze. Ma probabilmente era questo il progetto di chi ha creato... Perché c'è gente competente, c'è gente competente alla Messe. E ci sono anche le forze economiche, probabilmente, perché se si riesce a sostenere un addio, un'eccellenza, se negli anni passati si è sostenuto una Serie C e una Serie D insieme, forse ci sono le forze economiche anche per fare qualcosa di più. E come dicevo prima, ma c'è tanta gente competente, c'è tanta gente che è brava a fare calcio alla Messe e ce ne sono parecchie. Questo è il mio pensiero. Questo però non significa che le basi gettate da queste nuove due società, Sambiase e Vigor Lamezia, non possano portare a qualcosa di importante. Il Sambiase ha centrato quest'anno, dicevamo, a suon di record, la promozione in Serie D. La Vigor disputerà i play-off per provare chissà a raggiungere il Sambiase in Serie D, e ce lo auguriamo l'anno prossimo, per una Serie D maggiormente calabrese. Visto quello che sta succedendo, e ne parleremo a breve anche in coda, con una che ha rinunciato a due che sono già retrocesse e un'altra che andrà a retrocedere di calabrese. Speriamo che ce ne possano essere sempre di più, mister, e speriamo che ci sia veramente adesso la concezione di fare cose fatte bene, e non di fare i passi più lunghi delle gambe, né di strafare, nel senso di fare le cose per come vanno fatte. Perché spesso la mezza ha subito questi... Gli ultimi anni in Calabria, se tu vai a vedere il passato, c'è sempre la calabrese che retrocede. Negli ultimi anni, ma decenni, forse 10-15 anni, c'è sempre stata la squadra o le squadre calabrese che sono retrocesse. Angelo, forse potrebbe rispondermi meglio. Questo significa che non si può inventare niente, non si può avventurarsi a fare calcio, il calcio deve essere fatto con programmazione, deve essere fatto con lungimiranza, da persone che hanno un modo operativo importante, senza mettersi in mostra, cercando sempre di apparire quando non è possibile. Io credo che oggi come oggi, specialmente in questo momento storico, dove viviamo delle grosse difficoltà economiche, tante volte è meglio fare una categoria inferiore, ma con dignità, e non proporre una squadra che... Dispiace ad esempio la gioiese di quest'anno, da quando è partita non è mai partita. Esatto. Quindi, grosse difficoltà e brutte figure. Se posso dire, anche il Castrovilla non sapeva se doveva scrivere, il Locri, il San Luca, bravo. E dico, noi calabrese, allora, io dico questo, l'ho detto sempre, peccato, mi dispiace dire queste cose, però in questo momento, in Calabria, quello che possono fare calcio è la Mezzia, punto. San Biase, la Vigo Ramezia, perché San Biase, ricordiamo, c'è un grande presidente, io l'ho conosciuto un po' di anni fa, il presidente Forlino e la sua dirigenza, che veramente hanno fatto qualcosa di straordinario. Diciamo, c'è stata una sorta di unione di intenti, perché ha unito due distinte società, Roma, Sport e San Biase, quindi unite le forze economiche di quelle realtà in contatto. Poi la Vigo Ramezia, so che si sta attrezzando, si stanno organizzando, dico, il calcio in Calabria, con la Vibonese, Regina, Crotone e Catanzaro, l'unica città che può fare calcio a certi livelli, è la Mezzia. Non lo togliendo al Castrovillari, alla Gioiese, perché onestamente, diceva bene Claudio, dico, non bisogna improvvisarsi, bisogna programmare, che io vinco in campionato d'eccellenza, l'anno dopo, la faccio la comparsa, non è il caso di andare a spendere l'anno prima, magari illudere i tifosi e via dicendo. E questa è una cosa che non deve esistere. Perché poi i coachi, nel momento in cui si retrocede, sono pesanti, cioè non è facile rimettere insieme poi tutto quanto per ripartire. Uno può dire, va bene, vado a fare un anno in Serie D e poi torno in compagna in eccellenza. Il Logri ci insegna, tre anni fa il Logri ha vinto il campionato, poi il retrocesso, ha rivinto il campionato e domenica c'è lo spareggio, può dare male. Non si sembra che l'anno scorso il Logri ha fatto il secondo. Sì, sì, sì. Quindi stiamo parlando di una spazio dove bisogna fare meriti alla società, meriti al Tecnico Mancini, meriti a tutto il gruppo, perché onestamente adesso a memoria non mi sembrava un organico da secondo posto. Però quest'anno ha rischiato di non iscriversi, ha rischiato di non iscriversi, però adesso domenica se la giocano San Luca e Logri. Hai capito che ti voglio dire? E poi noi calabresi quest'anno, perlomeno, con la Regina, con la Vibonese, la Sambiase o San Luca e Logri, noi abbiamo quattro squadre calabrese. Potevamo avere qualcuno in più, però quando non ci sono i programmi... Chi sa, magari ci sarà la Vigor Lamezzi e non ci sarà una tra Vibonese e Regina, anche qua, perché noi domenica, tra le altre cose, abbiamo il Paternò che gioca a Firenze contro la Solbiatese, vince la Coppa Italia, la mettono nel girone. Ha capito? E io quest'anno, parlavo con altre addette ai lavori pochi giorni fa, noi quest'anno abbiamo cinque città di provincia, è uscito il Trapani però, sono entrati l'Enna e la Nissa, Caltanissetta. Guarda che l'anno prossimo è un campionato importante, importantissimo. E non parliamo poi se c'è la Cereale, non lo so se il Siracusa può vincere i play-off, perché è nella lista, prima nella gradatoria, è nel ripescaggio, però tu ti rendi conto che squadre importanti ci sono in Sicilia che poi devono aggiungere altre due napoletane. Chissà se giungono la Paganese o la Nocerina o la Sarnese e vanno via il Porto e c'è Casannuovo. C'è punto interrogativo, ogni anno cambiano. Sembra che ci sia la Puteolana. Per dire, ci sono squadre e poi se mettono queste napoletane, ragazzi c'è un campionato non importante, di più. Non sarebbe una novità, perché il girone I ha sempre riservato, ha sempre visto partecipare piazze importantissime tra Calabria e Sicilia e Campania, ha sempre visto delle piazze importanti, perché ciclicamente purtroppo al sud succede, di avere i picchi di successo per poi sprofondare e quindi di dover ripartire dalla Serie D. Visto che state parlando di quella che sarà la Serie D dell'anno prossimo, lo chiedo ad entrambi. All'allenatore del Sambiase, che campionato sarà quello del Sambiase, al nuovo direttore sportivo dell'Igea Virtus, che campionato farà l'Igea Virtus. L'allenatore del Sambiase, io ti ringrazio, però è giusto che ci sia la conferma. Non è ancora arrivata una conferma ufficiale, la parte della proprietà. Al momento lei è l'allenatore del Sambiase. Sono contento e sarei felicissimo se potessi sedermi su questa panchina. Diciamo anche mister che come si fa a non confermare un allenatore che ha fatto il record che ha stabilito lei quest'anno, mi perdoni. Mi fa molto piacere. Lei sa, io conosco la proprietà, la società del Sambiase, non si può non confermare un allenatore così. Grazie Stefania, però voglio mettere in chiaro questo perché non mi va di dire cose che al momento non sono. Però per quanto riguarda il prossimo campionato, sarà un campionato molto difficile, sarà un campionato che, come stavamo dicendo, hanno avuto società blasonate, piazze importanti e soprattutto io credo che ci sarà Reggio Calabria se non dovesse andare tramite i ripescaggi. Sarà quella principale candidata o il Siracusa, saranno quelle due che al momento credo abbiano le credenziali per poter... La Nissa sta attrezzando la Nissa. Poi ci sono tante altre cose sotto che al momento non conosciamo. Il Sander viene fuori sempre. Brava, brava. La Nissa ha una proprietà forte. Tu conosci molto meglio queste piazze, queste situazioni, quindi sai rispondere meglio. Io ti dico che dall'esterno, secondo me, il prossimo anno sarà un campionato bello e nello stesso tempo difficile, però entusiasmante. Quanta voglia ha di mettersi in... Tentante. È anche una sfida personale, no? Insomma, di mettersi in discussione in questa serie. Io credo che ho fatto vent'anni di queste categorie. Ho cercato sempre di dare tanto entusiasmo, tanta passione, tanto conoscenze che ho avuto durante questi anni. Credo che personalmente sarebbe un coronamento a un lavoro fatto con molta professionalità, questo lo voglio dire. Poi, ripeto, i risultati sono frutto di tante cose. Sono frutto di programmazione societaria, sono frutto di calciatori che hai all'interno dello spogliatoio, di uomini che hai all'interno dello spogliatoio e di chi ti circonda, che è lo staff. Non voglio dimenticare i risultati ottenuti quest'anno, sì da Claudio Morelli, ma voglio menzionare tutti, da Alessandro Imbrogno a Massimo Morelli, a Gianluca Caravella. Sono persone che hanno dato veramente tanto perché il Sambiase possa andare in Serie D. Qual è stata veramente l'arma però di questo gruppo? Lei faceva riferimento allo spogliatoio, no? Tanti si chiedevano ad inizio stagione, tanti giocatori anche non italiani, insomma tanti argentini in questa squadra, tanti giocatori che hanno fatto anche categorie diverse. La paura era che si potesse non creare quella giusta amalgama, quella giusta sintonia che poi serve, no? Insomma, magari uno spogliatoio un po' di prime donne. Così non è stato però. Ho capito quello che dici ed effettivamente... Ed è merito suo questo. Merito mio e merito, ripeto, di chi come il direttore Mazzei, come il direttore Porpora, lo stesso Samele, sono persone che hanno contribuito alla crescita di questo spogliatoio. Io credo che lo spogliatoio sia effettivamente l'arma per poter vincere, per poter cercare di vincere e raggiungere risultati. Noi quest'anno abbiamo cambiato totalmente una rosa, abbiamo messo degli uomini di categoria superiore, degli uomini che venivano da altre nazioni. Quindi a livello culturale, all'interno dello spogliatoio, c'è stato tanto eterogeneo la situazione. Però alla base ci sono stati degli uomini. Questi sono... non me ne voglia nessuno, ma sono degli uomini che hanno veramente contribuito e hanno capito già dal ritiro che bisognava solamente fare una cosa, andare a... per vincere bisognava creare questo gruppo. E soprattutto non far trapelare mai quello che all'interno succede. Perché succede. anche per noi è successo, però ti posso garantire che è stato tutto chiuso lì dentro e lì si sono creati i presupposti per poter vincere. Questo secondo me è merito... è inutile dire... La gestione dello spogliatoio e dell'allenatore. È inutile dire, qua è merito dell'allenatore. L'allenatore deve essere quello che ti sprona, quello che ti crea entusiasmo. Io facevo riferimento al fatto... Quello che c'è carisma... Sì, che c'erano tanti giocatori importanti. Magari tanti giocatori che hanno fatto... Tenerne fuori ogni settimana qualcuno. Lui ha citato... È chiaro che è l'allenatore che deve essere bravo a gestire questi aspetti. Se mi posso permettere, Claudio ha citato il nostro staff, che è importantissimo. Sì, assolutamente. Come Antonio Mazzei, che ne ha vinto dei campionati. Sì, sì. Come Gennaro Porco. Giusto? Come Nicola. Nicola Samerzo. Sono tutta gente che hanno fatto gruppo e questo è merito di tutti quanti. Però in particolare noi, con l'allenatore, mettere 30 teste... E hanno cambiato tantissimo. Sì. Quello che dice, tantissimo. Non è facile fare un risultato perché il campionato di gerenza non era scarso. No. Quest'anno è stato medio-alto. Sì, sì. A differenza degli altri anni... In genere ci sono... Perché dice San Biase, no. Non era che c'è la riva Orlamezia, il Città Nova, il Soriano che è stato ma soppresso. Adesso, il boccale... Il boccale che c'è una buona squadra. Una buona squadra. Una buona squadra. Quello che un po' mi ha deluso, dico la verità, per la questione di punteggio, è stato il Città Nova. Io mi aspettavo qualcosa di più. del Città Nova. Però, guarda, il calcio adesso è strano. Una stagione così, sotto tono, può essere già domenica prossima se il Città Nova dovesse fare colpo alla Vigo Orlamezia, ha rimesso a posto una stagione. Una stagione bravo. Quindi, io credo che il Città Nova... Tutti si aspettavano il Città Nova. Sì, sì. E San Biase. Sì, sì, è vero. Sì, erano queste le due. No, no, queste sono le stagioni. E poi, alla fine, noi abbiamo vinto e due fanno il play-off. Quindi, il cerchio si è chiuso. Alla fine, i meriti stanno uscendo fuori. Anche se, come dici bene tu... Però, il merito è sempre, ti dico, dal gruppo, dall'allenatore, ripeto, che c'è carisma, c'è entusiasmo, ha voglia di trasmettere, trasmette veramente tante cose a un gruppo nuovo, di gente che avevano di tante nazionalità, come l'avevo io quest'anno ai soli apurezzuto. Dico, non è facile. Di fatti, questo è merito, sia della società, perché alle spalle, ricordiamoci, sempre, c'è adesso una società sport. Assolutamente. Se tu hai una società forte e ci sono tutti questi ingredienti, sicuramente i risultati arrivano. Quanto invece a quello che farà l'Igea Virtus, direttore, lei è arrivato da poco, insomma, la firma un paio di giorni fa, ma sta già programmando, immagino, quello che sarà il cambiamento della prossima stagione. è stato sto mesetto un po' a Barcellona, poche parole, la società vuole alzare un pochino l'asticella. Questo è l'obiettivo. Il primo obiettivo è quello di far rimanere Francesco De Gaetano, che ha fatto un grande lavoro, onestamente. Io spero che lui, adesso in settimana, ci vediamo, ci dobbiamo incontrare. stamattina ho già parlato anche per telefono, ieri ci sentiamo spesso, io spero che rimanga, questo è il primo obiettivo. E poi tenere il gruppo, che quest'anno io l'ho visto in tre o quattro partite, hanno un gruppo importante, affiatato, e quello che dicevo prima, io gli ho fatti i complimenti l'altra sera, che siamo stati a cena, sono stato pure io con la squadra, quando hanno sciolto diciamo le righe sono arrivati a casa, i ragazzi, e ho visto questo entusiasmo intorno all'allenatore. Per questo mi sono permesso di dire questo a Claudio, perché quando vedi, io domenico ho visto anche a Barcellona la regina, e anche a fine partita c'erano duemila persone, hanno festeggiato sia con i tifosi, il giocatore, l'allenatore, e lì ho capito veramente l'importante del gruppo, che spero che il mister De Gaetano possa rimanere a Barcellona, perché abbiamo tutti gli ingredienti di poter fare benino l'anno grosso, stare sempre ovviamente con i piedi per terra, come si diceva prima, ci sono squadri importanti, e noi l'importante è raggiungere la salvezza, e questo è il minimo, raggiungere la salvezza come hanno fatto quest'anno, a 4-5 giornate dalla fine, hanno raggiunto la salvezza, e questo è il nostro obiettivo primario. Tornando a parlare della coda della classifica in Serie D, insomma, domenica ci sarà questo spareggio fra San Luca e Locri che si giocherà a porte chiuse, tra l'altro quindi neanche l'apporto del pubblico per tentare di salvare una delle due, ma siccome la stagione di entrambe è stata molto deficitaria, molto difficile, avranno la forza poi chi si salva di fare la Serie D? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Non è che sarà un'altra estate calda anche in questo senso? Io lo spero, io lo spero che chi si salva o San Luca o Locri possano l'anno prossimo partecipare a un campionato così importante come si diceva prima. Ma parteciparci però con le carte in regola, non con due o tre partite poi rinunciando. Io spero di sì, io spero di sì perché... Anche perché già abbiamo una mezza rinuncia al prossimo campionato che arriva dalla Sicilia, quella del Sant'Agata che dice che... Sant'Agata è in bilico, dopo aver lottato fino all'ultimo per i play-off ha fatto un campionato importantissimo. Però come volevo dire è una sconfitta per tutti il fatto che non c'è pubblico. Sì, sì. Qua bisogna bisogna meditare e toccare altri tasti perché non è uno spareggio che tu ti puoi salvare. Una cittadina come Locri e come San Luca che sono vicine e famiglie di Derni questa è una sconfitta per tutti. Una tiposera come quella dell'Ocri non ce ne voglia quella del San Luca ma quella dell'Ocri è solitamente... È una sconfitta per tutti questa onestamente dal mio punto di vista. Insomma, è chiaro che non ci si possono fare degli auguri delle... insomma, un in bocca al lupo in particolare a uno o all'altra. Il mio unico augurio auspicio è che appunto chi si salva abbia la forza per poter affrontare degnamente la Serie D nella prossima stagione. Hanno fatto di tutto per poter giocare a porta aperte però so che ieri hanno dato esito negativo di non poter giocare e questa ti ripeto è la cosa più brutta. Sì, davvero una sconfitta. Parlavamo dell'importanza dello spogliatoio mi voglio ricollegare a quello che è successo a Crotone nel corso di questa stagione perché ne parlavamo prima tra l'altro prima che iniziassimo la trasmissione a microfoni spenti di quanto lo spogliatoio sia stato determinante proprio in casa Rossoblu con tutte quelle che sono state le vicissitudini tecniche con l'esonero il richiamo di Zauli l'arrivo di Baldini fatto fuori di fatto dallo spogliatoio il ritorno di Zauli e poi questi playoff affrontati chiaramente non con lo spirito giusto. Nel bene e nel male lo spogliatoio a Crotone quest'anno ha deciso la stagione? Sono partiti male ed è finita ancora peggio e questa ti dico Crotone era quella che doveva vincere il campionato assieme all'Avellino e tante altre squadre che erano lì a cercare di poter fare il salto di categoria invece la Juve Stabia è una squadra tranquilla ha vinto il campionato e questo è il Crotone dico la verità perlomeno leggendo un po' le crone onestamente qualcosa è andato storto non possiamo dal di fuori sapere i perché però cambiando tre volte l'allenatore vuol dire che c'era qualcosa di serio nello spogliatoio questo è poco ma è sicuro. Sì anche perché lo spogliatoio ha subito mostrato di volere Zauli perché nel momento del primo esonero quella conferenza per far tornare insomma sui propri passi la società richiamare Zauli l'atteggiamento poi ha avuto nei confronti di Baldini che si è dimostrato un signore in tutta la sua gestione insomma però ha lasciato intendere che qualcosa nello spogliatoio insomma io seguivo un po' le dichiarazioni di Silvio perché conosco molto bene e lui nelle quelle dichiarazioni ha espresso il suo maressere il suo maressere perché era inconcepibile che una squadra del genere non l'aveva più in mano difatti dopo qualche settimana ha deciso di andare via e questa è un'altra sconfitta come si parlava prima sì anche perché nel momento in cui lo spogliatoio diventa così determinante quelle che sono le decisioni societarie dovrebbe poi avere almeno la forza di prendersi le proprie responsabilità mister nel momento in cui decidi di trattenere un allenatore di farne mandare via un altro richiamare quello di prima poi dovresti dimostrare allora quello che vai dicendo avvengono anche nei dilettanti quindi dalla serie D all'eccellenza e il calcio però come dicevo prima se all'interno dello spogliatoio tu trovi degli uomini e allora diventa più semplice quando invece trovi delle persone che vogliono scaricare le proprie responsabilità con una facilità estrema alla persona più semplice che è l'allenatore ma questo non per difendere la categoria assolutamente però tu sei da solo come dice Angelo e tu sei da solo tu sei da solo contro tutti poi devi l'unico modo che hai per poter rispondere sono i risultati perché puoi lavorare quanto vuoi durante la settimana ma se i risultati non vengono la proprietà è costretta a stare a sentire qualche mugugno da parte di qualcuno perché poi ci sono quelle che non vogliono lavorare quelli che credono di fare dei lavori che non servono perché poi alla fine trovi sempre quello che si sente poi in quegli ambienti in quelle categorie ancora di più credo che una delle cause sia stato proprio secondo me la mancanza di uomini all'interno non ne voglia nessuno e io parlo dall'esterno anche perché voglio dire era stata costruita con un certo criterio la squadra quest'anno lo scorso anno grandi investimenti per provare a tenere testa al Catanzaro quest'anno ho trovato il Catanzaro che ha fatto non so quanti punti il Crotone era quella che io ho avuto la fortuna di incontrare il Crotone lo scorso anno con la Promosport loro stavano preparando i playoff Zauli abbiamo parlato un attimino ed era molto fiducioso sul proseguo quest'anno lo abbiamo rincontrato con il Sambiase era molto diverso il suo approcciarsi alla squadra perché ha detto quest'anno io devo lavorare moltissimo a differenza dell'anno scorso che avevo molta più gente di qualità molta più gente di personalità lui mi disse proprio queste parole quest'anno ho da lavorare tantissimo quindi aveva già capito che lo spogliatoio era diverso vi chiedo un'altra cosa quanto può aver inciso perché c'è stato un momento in cui il Crotone sembrava potersi riprendere insomma all'inizio del girone di ritorno ha inannellato una serie di risultati utili che sembravano poter cambiare l'inerzia di questo campionato quanto è inciso la partenza di Petriccione perché poi si parla di un giocatore che è chiaro era fondamentale nel gioco di Zauli nel gioco del Crotone e lo è adesso nel gioco del Catanzaro ma può un solo giocatore spostare così tanto gli equilibri? l'ha bisogna dare merito al direttore del Catanzaro Maelini perché ha preso un giocatore di livello e ha tolto tantissimo in mezzo al campo al Crotone io vedevo qualche partita durante la settimana avevo la possibilità di vederli e Petriccione veramente era tanta roba di fatti ha dimostrato al Catanzaro che in Serie B sta facendo la differenza e un giocatore in mezzo al campo come Petriccione tu te lo togli e veramente gli è mancato tantissimo un giocatore del genere un solo giocatore che sposta gli equilibri quindi può succedere può succedere soprattutto in una zona nevragica del campo infatti sta facendo la differenza in Serie B e neanche all'interno dello spogliatoio bisogna capire la sua valenza perché io credo che uno come Petriccione lì a Crotone aveva sulle spalle tanti suoi compagni che si riversavano sulla sua personalità sul suo modo di si vedeva un giocatore che ha fatto la Serie A che ha fatto Serie B ad altissimi livelli insomma gli si riconosce una certa leadership in uno spogliatoio di Serie C forse lì faceva crescere quel ragazzo che tutta quella pressione a Crotone non la riesce a sopportare mentre lui gli diceva stai tranquillo mettimela su di me quindi anche queste piccole cose hanno contribuito sicuramente abbiamo parlato un po' di Zauli della sua delusione andiamo a sentire quelle che sono state alcune considerazioni dopo la sconfitta in casa del Picerno quindi l'uscita dai play-off il tecnico che fa una sorta di bilancio un po' di quella che è stata questa sfortunata stagione per l'Iroso Blu Sì noi tutta l'annata un po' che quando giochi nel Crotone dove tre anni fa due anni fa era in Serie A è chiaro che la piazza si aspetta si aspetta sempre tanto però è arrivata la doppia retrocessione l'anno scorso la squadra molto competitiva ha rifallito i play-off poi parlare di fallimento nei play-off va su una su 28 quindi 27 falliscono qualcuna sicuramente qualche outsider però tante sono anche squadre che investono soldi e poi non andranno su e succederà anche quest'anno quindi la società ha provato a dare continuità si sono stati alti e bassi durante quest'anno penso che il giro di ritorno sia stato talmente negativo che non ci ha permesso di stare secondo me dove questa squadra doveva stare nel senso che poteva tranquillamente stare terza quarta quinta giocarsi quindi poi un play-off in maniera più agevole anche se non è la senata quindi tutto questo per quanto riguarda il mio futuro insomma oggi è ridicolo per quanto parlarne per quanto riguarda il futuro dei tifosi io mi auguro che stiano vicino a questa società perché io l'ho toccata con mano società molto importante che ama la squadra e la città quindi anche se negli ultimi anni è stato fatto qualche errore ma è stato fatto sempre errori con il cuore con le emozioni perché ho conosciuto il presidente tutta Raffaele Marenna il figlio Raffaele che è il nostro direttore generale ogni volta che parlava alla squadra con il cuore in mano e quindi emozioni e quindi io penso che nonostante questa sia una delusione importante come quella dell'anno scorso come negli ultimi anni io penso che con queste persone con questa società il crotone possa ritornare dove ultimamente è stato noi le prime giornate di gennaio pensavamo di arrivare anche i primi io ero convinto di poter dar fastidio anche alla Juve Stavia proprio quando siamo venuti a giocare qua insomma voi eravate secondi noi sesti ma c'erano 4-5 punti di distacco proprio tra tutte le squadre era un campionato ancora molto equilibrato da lì abbiamo fatto qualche pareggio poi c'è stato un cambio poi c'è ritorno poi ci sono state cessioni ci sono stati acquisti e la squadra man mano ha perso un po' di sicurezza ha perso sicurezza chiaramente noi siamo una piazza importante quindi le pressioni sono diverse rispetto a qualche altra piazza ma è normale che sia così quindi quando giochi nel crotone devi dimostrare capacità tecniche morali di personalità e man mano questa squadra partita dopo partita l'ha sempre un pochino perso e quando si vedeva staccarsi dal gruppone importante ha perso un po' tutto questo l'abbiamo ritrovato un po' a sprazzi ma non è stato sufficiente per ritornare a una posizione secondo me buona per poter disputare un playoff e da dire possiamo essere un outsider quando arrivi ottavo nono decimo insomma la storia oggi abbiamo visto tutti i risultati se non sbaglio è passato soltanto arrivini a gubbio quindi diventa molto difficile però oggi ci abbiamo provato gli episodi non ci hanno girato bene io penso che la squadra anche nel secondo tempo ci abbia messo tutto però non abbiamo mai trovato un guizzo vincente per riaprire la partita quindi va avanti un Picerno che comunque negli ultimi due anni mi piace sottolinearlo ha costruito qualcosa di importante col suo allenatore con la società tanti giocatori sono qui da tanto si vede hanno un senso di appartenenza importante una qualità tecnica importante quindi a me non meraviglia che il Picerno giochi io non la considero una piccola una piccola che sta in mezzo alle grandi io la considero una grande e a questo punto viene un po' inevitabile chiedersi che Crotone vedremo l'anno prossimo che cosa succederà è chiaro che è necessaria una nuova rivoluzione perché bisogna cambiare probabilmente molto bisogna adesso sbollire un pochettino questo periodo qua di defiance diciamo così e magari poi sia il presidente Brenna di capire dove hanno sbagliato perché sono capace di poter fare tutto questo e credo che di poter iniziare perché Crotone merita anche categorie importanti diciamo io spero che che il presidente Brenna possa possa ricompattare un po' l'ambiente perché l'ambiente quanto sta mancando un uomo come Peppe Ursino a Crotone? tantissimo tantissimo Peppe tra l'altro che è un amico però è conoscitore del calcio ha fatto più di 20 anni a Crotone ha fatto dalla serie D è arrivato in serie A dico un personaggio come lui sicuramente si è fatto sentire la sua mancanza io come ti dicevo prima spero che il presidente Brenna può avere la forza anche per ricomportare l'ambiente perché ho visto delle scene bruttissime l'altra sera in televisione che i giocatori invitati a togliersi la maglia e questo è come diciamo prima delle altre sconfitte quando San Luca e Locri giocano a porte chiuse e questo è un altro tipo di sconfitta ancora peggio prima facevamo riferimento ai tifosi della Regina amareggiati perché si sono visti strappare una serie B e hanno dovuto affrontare una serie D anche quelli del Crotone nel giro di pochi anni sono passati dalla serie A ad una delusione così cocente come quella attuale perché lo scorso anno almeno hanno lottato per il vertice quest'anno invece è una stagione assolutamente deficitaria in serie C quindi anche questo incide tanto bisogna solamente rimboccarsi le maniche e ricompattare l'ambiente i tifosi ed essere tutt'uno come era negli anni passati questo è il lavoro che gli rifaccio la forza una società come quella dei Brenna insomma sicuramente ce l'ha insomma l'esperienza e le spalle belle larghe per venirne fuori e per ripartire assolutamente è quello che ci auguriamo chiaramente perché in serie C chissà magari vabbè Crotone sicuramente chissà che non ci possa essere è difficile è difficile è molto difficile però insomma speriamo che ci possa essere qualche altra calabrese intanto tornando alla serie D nella quale ci saranno sicuramente San Biase ed Igea Virtus siamo quasi in chiusura quindi io vi chiedo giusto un ultimo parere mister io la voglio sentire su quello che però è stata ancora la vittoria di quest'anno perché lei ha parlato tanto della forza dello staff della della sintonia di gruppo è chiaro che non è bello fare dei nomi per quel che riguarda la rosa che ha avuto a disposizione però ci sono stati dei giocatori che hanno veramente mostrato quella marcia in più ci sono stati degli elementi che hanno trascinato questo San Biase alla vittoria beh sicuramente sì però credimi te lo dico con i numeri cioè all'interno di questa squadra ho avuto tante defezioni dove gli attaccanti sono stati fuori per un periodo lunghissimo e io ho dovuto fare di necessità virtù chiedendo ad uno come Antonio Crucitti di fare la punta centrale sul 4-3-3 Antonio mi faceva la punta centrale e quando lui mi ha detto io sono a tua disposizione mister cioè è la vittoria quindi Antonio non perché il primo giorno l'ho fatto capitano il primo giorno che ci siamo incontrati ci siamo detti alcune cose ma poi non voglio menzionare non voglio dimenticare nessuno ma Gerardo Strumbo lo stesso Colombatti lo stesso per quella che è stata una difesa una difesa dei record perché San Biasi ha stabilito dei record impressionanti per la categoria quindi ti voglio dire sono degli uomini che hanno dato veramente tanto e ripeto non me ne voglia nessuno se ne dimentico qualcuno perché non è corretto però ho avuto la fortuna di avere queste persone che hanno veramente dato tutto affinché il San Biasi raggiungesse questo obiettivo che poi è stato coronato da tutti questi record che credo fanno enormemente piacere io infatti durante la stagione dicevo sempre ricordatevi che quando noi facciamo bene non vinceremo solo il campionato ma scriveremo il nostro nome in futuro è una cosa che lo ripetevo molto spesso durante la settimana e in ultimo non perché sono stati gli allenamenti fatti in un certo modo gli allenamenti che siamo stati molto bravi a curare i dettagli a vedere dove dovevamo migliorare soprattutto con uno come Gianluca Caravella che è un professionista ho visto fare gli allenamenti ai portieri credimi non c'entra niente con l'eccellenza questo lo posso tranquillamente dire ed è un valore aggiunto a tutto questo che poi dopo è uscito fuori la vittoria del campionato e non ultimo gli US01 e tutta la tifoseria del San Biase ragazzi che non ci hanno mai che ne ha subite tante in questi ultimi anni tu lo sai non ci hanno mai fatto mancare il loro rapporto da nessuna parte da quest'estate nei primi allenamenti nei primi le prime amichevoli erano presenti grazie a loro ci siamo sentiti sempre così con le spalle forti direttore che ruolo può interpretare questo San Biase se riesce a mantenere questa ossatura e a puntellare l'organico se riesce a mantenere questo entusiasmo soprattutto nella prossima serie mi ripeto la società forte quella è il primo obiettivo e poi i componenti sicuramente che ci hanno pubblico io ho avuto la fortuna di incontrarli due volte vorrei anche citare un po' l'isola Capurizzuto devo ringraziare il mio club e la mia società che mi ha messo a disposizione di poter fare una squadra piano piano 12 elementi nuovi non è facile mettere a dicembre e poi avere una classifica perché onestamente si è salvata la penultima giornata io sono andato via qualche domenica prima e voglio ringraziare la mia società e voglio ringraziare anche l'allenatore che c'era prima è quello che ho portato che c'era Momo Mesiti eppure Tony Lio che ha fatto un grande lavoro gli ultimi due mesi è stato incredibile io gli faccio i migliori auguri sia a Momo Mesiti che a Tony di poter trovare una squadra di poter allenare l'anno prossimo non lo so se rimane a isola gli faccio questo augurio di cuore e poi come mi dicevi tu la domanda una società forte un tecnico forte preparato mi è piaciuto Claudio quando ha detto che ha fatto 20 anni e più di queste categorie ha coronato un sogno giusto? io spero che questo sogno si possa ancora può andare avanti e questo gli faccio veramente complimenti un augurio perché quando c'è un gruppo del genere è giusto che magari il gruppo poi sicuramente magari qualche elemento ci vorrà nuovo elemento però il gruppo già c'è un'ossiatura perlomeno a me mi sono piaciute dal primo tra l'altro cambia il regolamento under il prossimo anno ci sono tre under ci sono tre under questo è un vantaggio anche per noi addetti ai lavori a mettere a disposizione all'allenatore e qualche giocatore ancora importante e io questo lavoro che faccio sia al San Biase che alla mia società che cosa le ha chiesto la sua nuova società come obiettivo per il prossimo anno perché chiaro il momento per costruire una nuova squadra si parte dal direttore sportivo si questo è assoluto o meglio la prassi dovrebbe essere questa e questo è stato fatto e che cosa le ha chiesto di là poi di individuare il profilo giusto come obiettivo a me mi ha chiesto innanzitutto io sono stato contentissimo da questa chiamata anche se da quest'inverno anche io che lei è legato all'Igia Virtus a Barcellona ho giocato come ho giocato con la Vigo con la Messa ho indossato quella maglia mio fratello ha vinto un campionato in C è uno dei miei fratelli gemelli mi ha chiesto di di cercare di poter migliorare quelle cose di quest'anno che non sono andate in poche parole abbiamo discusso tantissimo un po' dell'organizzazione di stare più vicino all'allenatore perché non c'era una figura del genere di aiutare lo staff e tutto quanto e poi gli ho detto io di cercare ogni domenica di portare dieci persone in più allo stadio questo è il mio obiettivo che devo fare a piccoli passi questo è il mio augurio che faccio e devo ringraziare sia la dirigenza della Novegea che mi dà questa possibilità di poter fare questo tipo di lavoro e l'augurio che vi faccio io in quanto due calabresi il primo che presterà il proprio servizio ad una squadra siciliana il secondo mi auguro a questo punto mister di poterla vedere ancora alla guida del San Piace per il prossimo anno e di togliervi ulteriori soddisfazioni insomma nella prossima stagione perché a mio giudizio entrambi come professionisti lo meritate grazie davvero per essere stati con noi questa sera è una buona sera gentilissima come sempre grazie a voi per averci seguito grazie anche a Susanna Scotti per la regia che non la saluto e non la ringrazio mai ci rivediamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Tutti nel pallone perché ci sarà da parlare dei playoff del Catanzaro e vediamo anche di quelli di Serie D chi andrà avanti fra Vibonese e Regina grazie alla prossima grazie a tutti